Benvenuti in Happy Shopping, la rubrica che vi presenta le migliori proposte commerciali di San Cataldo. Con tavolette soft close, pavimenti ingresso porcellanato effetto legno 15x90 a partire da 10€ al metro quadro, rivestimenti bagni 20x40 a partire da 7€ al metro quadro. Siamo a San Cataldo, in via Principe Galletti 110. Impresabile! Per ogni persona il lavoro è l'occasione per crescere. Per una persona con disabilità è molto, molto di più. Ha il sapore della conquista. Nei nostri laboratori, svolti con l'associazione Anfas di Caltanissetta, non realizziamo semplici bomboniere, ma veri e propri percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei nostri ragazzi. Nella nostra nuova sede, in Corso Europa 80 a San Cataldo, potrai scoprire i servizi più adatti alle tue esigenze. Bomboniere, confettate, allestimenti, regaleria e tanto altro. Seguici sulla nostra pagina Facebook impresabile.it. Vieni a scoprire le originali bomboniere solidali Cuore Matto, di cui siamo rivenditori ufficiali. Un momento di festa può diventare ancora più felice se scegli di arricchirlo con il dono della solidarietà. Impresabile. Emozioni da condividere. Il centro Ipposervice è il luogo ideale per trascorrere un piacevole e rilassante contatto con il cavallo. Proponiamo diverse attività come ipoterapia, TMC, pet therapy, equitazione di campagna, corsi di equitazione, estate equestre, organizzazione feste di compleanno, inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo lavoro e tanto altro ancora. Che aspetti? Corri da noi e buttati in questa incantevole esplorazione del rapporto uomo-cavallo. Parafarmacia Farmaci HL San Cataldo del dottore Furnò e della dottoressa Farina. Non è una semplice parafarmacia, ma un luogo dove farsi guidare da personale esperto tra l'ampia gamma di prodotti, farmaci di automedicazione OTC e SOP, farmaci veterinari, in uno spazio caldo e accogliente. Siamo specializzati in dermocosmesi, ortopedia, tutori, calzature sanitarie e anche noleggio ausili per la riabilitazione. Offriamo servizi estetici, ossigenoterapia, pressoterapia e da oggi Epilevo, il laser per epilazione definitiva. Rapido, efficace e in dolore. Quello che è sempre sognato. Siamo a San Cataldo in via Vittorio Beneto 20, di fronte alla clinica Regina Pacis. Viale Italia In Viale Italia 47 troverai un vasto assortimento di vario genere, detersivi, prodotti per la tua casa e articoli da regalo, come giocattoli, bigiotteria e molto altro ancora. Approfitta dello sconto del 20% su tutti gli articoli. Inoltre, senza limite di acquisto, le offerte sono estese a tutti i rivenditori e si effettua anche servizio a domicilio gratuito. Che aspetti? Corri a San Cataldo da Viale Italia 47 o chiama ai nostri numeri telefonici. Trovi tutte le nostre offerte, anche su Facebook. Queste erano le proposte di Happy Shopping. Appuntamento alla prossima rubrica!